Tocchi si rivede. Le loro gesta avevano fatto il giro d'Italia quando accolsero in malomodo la truppa della trasmissione Rai Popolo Sovrano e il giornalista, già vittima degli spada ad Osta, Daniele Piervincenzi. Ora tornano alla ribalta della cronaca per una delle rapine più spettacolari, se così si può definire, avvenuta a Pescara negli ultimi anni. Sono Johnny Di Pietrantonio e Kevin Nacellini, rispettivamente di appena 22 e 24 anni, ma già con un bel curriculum alle spalle. Sarebbero stati loro due dei componenti della batteria di quattro persone che lo scorso 27 dicembre fece eruzione armata di fucili nella nota giuglieria Officine Complicato di Piazza Salotto, portando via orologi per un valore complessivo di circa 100.000 euro. E nei loro desideri era già pronto un altro colpo a sensazione, una rapina in un noto ingrosso di ori a Pescara Porta Nuova per un valore non inferiore ai 400.000 euro, così come dicevano nelle intercettazioni ambientali. Ecco perché grazie alla solerzia del PM, Rosangelo Di Stefano, del GIP Nicola Colantonio, gli uomini della sezione antirapine della squadra mobile di Pescara li hanno fermati prima che entrassero nuovamente in azione. Domiciliari Percellini, per il quale il GIP ha ritenuto sussistenti grevi indizi solo per il reato di detenzione a porto abusivo di armi, ed il carcere per di Pietrantonio, preso ieri vicino a Via Lebovio, mentre in compagnia di moglie e figlio stava per cedere mezzo grammo di cocaina a un tossico dipendente, così riferisce la questura. Alla loro individuazione gli inquirenti sono giunti grazie a una lunga serie di indizi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ambientali, filmati di videosorveglianza, in particolare il geolocalizzatore della Golf in dotazione della polizza assicurativa, collocata con ragionevole certezza nei pressi del parcheggio Exfea, dove sono state date le fiamme le due moto utilizzate per la rapina. Quella Golf è intestata alla moglie di Di Pietrantonio, il quale il giorno dopo la rapina è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri mentre la ripuliva in un autolavaggio. Dal geolocalizzatore gli agenti sono riusciti a collocare la vettura anche nel luogo e nell'ora in cui è stata rubata una delle due moto e nei pressi del luogo dove è stato rinvenuto un borsone con all'interno un casco, una parrucca bruciata, ma soprattutto il frangivetri utilizzato per rompere la vetrina all'interno della quale c'erano gli orologi rubati. Nessuna traccia al momento della refurtiva dei fucili, ma in un video nella telefonino di uno dei due indagati un filmato nel quale i due si pavoneggiavano armati proprio di uno fucile compatibile con quello usato nella rapina. Resta da identificare ora gli altri componenti del commando e soprattutto possibili legami con un livello di criminalità superiore. Cercheremo di arrivare all'individuazione di tutti i componenti della batteria e da lì poi potremo dare una risposta a quello che potrebbe essere il livello di criminalità. Però io su questo aspetto vorrei mantenere uno stretto riservo perché le attività sono ancora in corso. Ci siamo noi, le forze dell'ordine, ma ci sono anche i cittadini che anche in questa indagine sono stati importanti perché nell'immediatezza alcuni dati importantissimi sono stati offerti proprio dai testimoni. Quindi c'è la polizia, ma io faccio appello anche alla parte migliore della cittadinanza che anche in questa occasione ha dimostrato sensibilità e ci è stata vicina e utile. Grazie a tutti.